Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze. Per questi lavori coda in uscita a Ginestra, provenendo da Firenze, e svincolo di Montelupo Fiorentino chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandice e la Strassigna verso Livorno e coda in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandice in direzione Firenze. Spostandoci in A1 rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Coda per lavori in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!